Benvenuti a questo seminario, il mio grande master di Cialgustillo, sono onorato e davvero emozionato di avervi così in tanti qui, a trovare e a onorare la sua presenza. Questo momento è un momento magico, per me è un momento magico per tutti voi, l'obiettivo di queste due giornate è molto semplice, divertirsi prima di tutto, imparare qualcosa che vi può essere d'aiuto e questa è la seconda grande ragione. Io voglio semplificare il tutto col dirvi ancora grazie, buon lavoro, fatevi il vostro video e soprattutto vi lascio la parola al mio grande maestro e grande amico, grazie a voi. Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.